Si chiama Megan Hall, è una poliziotta o ex poliziotta la quale avrebbe consumato rapporti intimi con i suoi ex colleghi o colleghi di lavoro. Gli sarebbero inviate delle foto piuttosto esplicite, quindi erotiche, e si andava ad incontrare in un hotel proprio per consumare rapporti. Facevano lo stesso orale, anche però nel momento in cui andavano a lavorare, i cinque però sono stati anche accusati di una cattiva condotta e quindi sono stati licenziati in tronco. Sono arrivati ovviamente i supervisori, la gente donna era sposata, faceva sapere che aveva un matrimonio aperto, scherzava, si divertiva a parlare delle dimensioni dei loro membri di questi cinque uomini e avrebbe avuto delle relazioni intime e esplicite. A prendere e perdere il posto, notte che lei, anche io a Lugo, Lewis Powell, T. McGovern e Seneca Schills, sarebbero questi cinque personaggi che coinvolti, che adesso non sono più poliziotti. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale e commentate. Ciao.